Pressione in temporaneo aumento sul Mediterraneo centrale, profonda circolazione depressionaria sulle isole britanniche con marcato gradiente barico. Martedì 15 dicembre in Toscana molto nuvoloso al mattino, con possibili isolate e deboli piogge sul nord, più probabili sui rilievi. Parziali schiarite durante il pomeriggio, in particolare al centro-sud della regione. In serata, nuovo aumento delle nubi da ovest con deboli piogge. Venti deboli variabili nell'interno, moderati di scirocco lungo la costa, mari poco mossi sotto costa, temperature stazionarie con valori superiori alle medie del periodo. Sulla nostra provincia cielo coperto. A Lucca temperatura minima 4, massima 11 gradi. A Castelnuovo minima 4, massima 11 gradi. A Viareggio minima 7, massima 11 gradi.